Hernan Crespo premiato ieri sera dal Parma Club la Salamandra di Salso Maggiore nella tradizionale festa annuale tenutasi in un noto ristorante di Scipione Ponte. Insieme al campione argentino, attuale allenatore della primavera crociata, sono intervenuti anche tutti i giocatori della stessa formazione giovanile. È sempre un piacere che hai la possibilità di tenere ancora in Parma qualsiasi scusa valida per riunirci e per fare Parma e per parlare del nostro Parma, anche in questi momenti o soprattutto in questi momenti. Presenta la serata anche il presidente della provincia di Parma, nonché sindaco di Salso Maggiore, Filippo Frittelli, in una serata che ha riunito molti dei soci del Centro Coordinamento Clubs guidato da Angelo Manfredini. Siamo qua con tutta la primavera, quest'anno ho deciso di portare tutta la primavera del Parma per dare un segnale anche ai giovani, visto il momento critico che sta attraversando la nostra società, un segnale anche ai giovani che i tifosi sono vicini anche ai giovani e per augurarle un futuro roseo e speriamo ancora con le maglie del Parma. Quindi grazie a Ampeglio Guarsi, l'organizzatore di questa serata, un grazie a tutti e speriamo in un futuro roseo per la nostra società, perché dico nostra perché è nostra, ce la sentiamo nostra, tifosi del Parma perché è nostra e basta e qua mi fermo per non andare oltre. Sempre ieri sera, sulla nostra Teleeducato, nella trentesima puntata stagionale di Calcio e Calcio Più, dibattito sulla situazione del Parma dopo il successo contro l'Udinese e nell'imminenza della gara in programma domani contro la Juventus al Tardini. Sì, d'accordo, l'orgoglio, ma c'è anche qualche rimpianto, qualche rimpianto da tenere presente perché le tappe che tu hai elencato di questa lunga via Crucis ha riservato anche dal campo sicuramente non delle soddisfazioni nell'arco di quella che è stata questa annata. Diciamo anzi che le delusioni dal punto di vista sportivo hanno preceduto le notizie poi terribili che si sarebbero avute dal fronte societario. Quando il Parma buscò il famoso 7-0 che tu hai poc'anzi ricordato e che cercheremo di vendicare nella partita di sabato sera, ancora la notizia ufficiale del mancato pagamento degli stipendi non era arrivato. Era il 9 di novembre. Era il 9 di novembre. C'è intanto un senso di rivalsa per quel 7-0 subito all'andata, complice anche l'atteggiamento allo sbando dei giocatori del Parma. C'è voglia di grande risultato, c'è voglia di impresa, di festeggiare con i propri tifosi, di dare continuità agli ultimi due risultati positivi. Di fronte il Parma troverà una Juventus squadra stellare, fortissima però, con diverse assenze. Una squadra che nell'ultimo periodo ha giocato molto, una squadra che dovrà affrontare la prossima settimana una sfida importantissima dei quarti di finale di Champions League con il Monaco. Magari, magari così. Il Parma può approfittare di una serie di situazioni o no? Sinceramente un pensierino ce l'ho fatto e non solo io, anche a sentire in Curva Nord alla fine della partita con l'Udinese, molte persone dicevano che sarebbe una goduria vincere sabato con la Juve. Con la di sabato sicuramente Michele è la partita, cioè quella che noi tifosi del Parma sentiamo di più. Sarebbe sempre bello batterla, diciamolo, però quest'anno sarebbe veramente una soddisfazione in più, visto quello che è successo, visto il 7-0 dell'andata e sarebbe veramente bello batterla. La programmazione sportiva di Teleducato proseguirà come di consueto lunedì in diretta alle ore 21 con Calcio e Calcio.